Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova video lezione riguardante le costruzioni con righe e compasso. Oggi andiamo a costruire l'asse di un segmento. L'asse di un segmento è quella retta perpendicolare al segmento, quindi chiamiamo retta A perpendicolare al segmento AB, passante per il punto medio del segmento AB, quindi il punto medio M appartiene all'asse. Andiamo a vedere come si traccia. La costruzione è la stessa del punto medio di un segmento. Allora, andiamo a tracciare il segmento AB, quindi segmento di estremi A e B, e andiamo a prendere il nostro compasso. Puntiamo il compasso in A con un'apertura che è sicuramente maggiore della metà del segmento e tracciamo un arco. L'arco deve essere bello grande. Adesso con la stessa apertura puntiamo in B. Ricordatevi di prendere il compasso dall'alto per non modificare l'apertura. E tracciamo un altro arco. Questi due archi, li chiamiamo arco della circonferenza 1 e arco della circonferenza 2, si intersecano in due punti, P e Q. Andiamo ad unire questi due punti, P e Q. La retta passante per P e Q è l'asse del segmento AB. Quindi questo M è il punto medio del segmento e questo è l'asse. Quindi una retta perpendicolare da B passante per il suo punto medio.